Assessore Cuzzi aveva anticipato ai nostri microfoni qualche giorno fa che a Pescara ci sarebbe stato un importante evento di fine stagione. Ci sarà il 30 agosto il concerto di Vecchioni nell'ambito di un'iniziativa per ricordare Luigi Tenco. Sì, siamo riusciti a portare questa importante iniziativa a Pescara, l'avevamo annunciata come una sorpresa, quindi il Tenco Ascolta, che è una fase diciamo così promozionale della canzone d'autore, che siamo riusciti a postare a Pescara con la straordinaria partecipazione di Roberto Vecchioni. Io direi che è un risultato importante, dobbiamo ringraziare la sensibilità artistica di Paolo Talanca che ci ha aiutato a portare qui questa importante iniziativa, soprattutto dobbiamo così programmare questi appuntamenti che sono importanti per la nostra città, che non sono dei singoli eventi ma che fanno sì che i grandi eventi diventino poi promozione turistica, economia e bellezza. Un evento importante per chiudere l'estate sarà l'ingresso gratuito ovviamente in Piazza Largo Mediterraneo per tutti i pescaresi, tra l'altro prosegue il cartellone estivo che avevate allestito per il mese di agosto. Sì, l'evento è totalmente gratuito, si serrà il 30, come dicevi bene tu prima, a Largo Mediterraneo, lo Stadio del Mare, ma l'estate prosegue perché noi abbiamo voglia di animare anche il settembre di questa stagione che fino ad oggi per il tempo ha creato non pochi disagi. Quindi ci saranno diversi appuntamenti, certo questo è l'evento di punta, l'evento principe ed è un evento che ci crea, diciamo così, il sorriso e fa sì che la nostra città torni sul panorama nazionale anche per quanto riguarda la programmazione e la canzone d'autore.